quando capita una cosa può essere adesso faccio un esempio drastico un omicidio si tende a punire il colpevole metterlo in un posto che nessuno lo vede è un po come mettere la polvere di casa sotto al tappeto cioè si tende a non far vedere il problema non si affrontano mai le motivazioni la causa perché arriva oggi parlavo proprio con un vicino di casa di un ladro in casa tutti ladri ma nessuno si chiede perché quella persona singola è andata a rubare perché ha avuto l'esigenza di andare a rubare perché la società ti dà i miti irraggiungibili perché viene sempre messa la competitività sociale ci sono tantissimi fattori al di là delle differenze e quello è il grosso dibattito del motivo per cui prima di tutto sono stati chiusi i manicomi uno vedi che è un po' fuori dalle regole e quindi lo sedi con i farmaci lo sbatti dentro in una cella lo chiudi dentro per la vita e ho risolto il problema no è stata fatta questa legge ormai decenni fa in Italia dove sono stati chiusi i manicomi perché possiamo affrontare le cose in modo diverso e poi su questo si appoggia anche tutto il discorso delle carceri e quindi c'è chi dice noi delle carceri potremmo fare a meno dobbiamo trovare il sistema di aiutare queste persone piuttosto che in sostanza eliminarle dalla società è una questione di ricerca della causa cioè un conto è fermarsi al sintomo e un conto è ricercare la causa per ricercare la causa è un meccanismo sicuramente molto più complesso è molto più facile e anche molto più difficile venderlo è molto più come tu hai detto perfettamente se te scopri ricerchi la molecola, ricerchi l'enzima, ricerchi il prodotto che ti dà una soluzione facile, vendibile e che lavora sui sintomi sei quasi sicuro di venderlo mentre se tu fai una retro ingegneria personale dove vai a investigare sulle cause sociali sulle cause culturali c'è tantissimi fattori di alimentazione ciao, è proprio un processo opposto ma infatti questo è quello che facciamo noi cioè la nostra prospettiva sulla salute è questo ogni persona dovrebbe essere approcciata in modo completamente soggettivo quindi non è effettivamente un prodotto scalabile l'unica cosa che posso fare io nel mio lavoro in termini economici è insegnarti questo punto di vista, questo modello della salute ma non avrà mai un prodotto da venderti secondo le leggi biologiche che così stai meglio e quindi infatti non è una cosa scalabile dal punto di vista industriale e allora è un bel casino perché tu ogni medico dovrebbe oltre a dare il farmaco che ti aiuta dal punto di vista sintomatico entrare nella vita della persona tra l'altro in punta di piedi con una maestria che i medici oggi non sono formati ad avere e aiutare questa persona a sbrogliare appunto la causa della sua malattia piuttosto che della sua psicosi perché adesso noi stiamo parlando di questi tu parli del ladro parlavamo anche dei manicomi cioè persone che hanno comportamenti che sono strani a volte borderline a livello sociale ma le cinque leggi biologiche ci danno una spiegazione quindi una eziologia anche di questo in maniera molto precisa capito? quindi se uno è, che ne so, compulsivo ossessivo compulsivo non è a caso perché è nato così ma perché ha delle particolari situazioni nella sua vita che lo portano a comportarsi così ed è biologicamente sensato che sia così allora un medico psichiatra non sarebbe più solo uno che ti prescrive il farmaco per un po' calmarti per stordirti per fare in modo che queste manifestazioni di comportamento non vengano fuori ma sarebbe uno che invece ti aiuta proprio da questo punto di vista personale a sentire qual è la causa il motivo per cui sei così ossessivo compulsivo e lo vai a vedere nella sua vita questa cosa i psichiatri assolutamente non lo fanno forse un po' gli psicologi ma il 99.99% di queste persone non conoscono queste correlazioni tra l'altro mi viene in mente adesso tra le figurine del mio album Peter Goci che è questo norvegese che si è battuto tantissimo nel passato sui le mammografie perché se ne fanno troppe si è battuto tanto sul vaccino per l'HPV per il papillomavirus che anche quello si fa a tappeto ma efficacia boh parliamone e adesso si sta battendo tantissimo proprio dal punto di vista della psichiatria perché soprattutto in America ma anche qua c'è un abuso di farmaci psichiatrici che è esagerato c'è una c'è anche questo fenomeno delle etichette si tende a classificare i bambini che sei iperattivo esatto tu sei iperattivo allora devi tu sei depresso e ti do quindi il farmaco il problema è che poi questi farmaci hanno effetti anche devastanti perché un po' capito hanno sempre effetti collaterali che bloccano il cervello bloccano la cresce fanno un macello solo perché non comprendiamo la causa di questa roba e quindi per farti stare un po' meglio un po' più nella società un po' più comodo ti faccio fare sta roba tra l'altro molto spesso questi farmaci poi vengono dati a vita perché siccome questa persona non esce più col farmaco è ancora più difficile che ne esca dalla sua condizione e rimane a vita ma quante persone ho conosciuto anche che prendono questi farmaci che sono stati prescritti magari decenni trent'anni prima non hanno più visto il medico e continuano quotidianamente a prendere sta roba e poi vedi anche che degenerano a livello cerebrale per forza Peter Goci sta facendo una battaglia proprio per disintossicare per far capire alle persone che anche lì la farmaceutica l'industria il mercato della finanza sta facendo una carneficina dal punto di vista della psichiatria così dobbiamo essere coscienti sì io direi che a questo punto possiamo chiamarla sovranità individuale più che una sovranità solo strettamente legata a uno di questi come la farmaceutica ma come l'alimentazione e tutte le valutare tutte le influenze esterne che distruggono questa sovranità che decentralizzano che ti spostano l'interesse che fanno entrare interessi enormi nella vita di una persona che per questo è difficilissimo anche combatterli perché sono strutturati per super finanziati hanno un sacco di ma io dico non è che non è che una cosa cioè la capiscono tutti perché si rendono conto che l'industrializzazione ci ha portato in tutti i settori a questa questa situazione però dobbiamo comprendere che non è tutto il mondo della ricerca tutto il mondo dei medici fatto così c'è un grosso fronte di persone che lavorano basandosi sulle evidenze e che fanno anche una guerra personale quotidiana e noi dobbiamo semplicemente esserne coscienti ed essere in contatto con questi personaggi adesso ti leggo giusto una frase di un altro delle mie figurine Richard Smith che era un ex caporedattore del British Medical Journal British Medical Journal santo perché ha tirato fuori dei personaggi e Richard Smith guarda nel 2012 perché questo è un mio articolo che ho scritto che cito un po' vecchio però cosa diceva parlava della viene chiamata anche slow medicine cioè sai c'è slow food c'è anche questa medicina sobria che non è tutta di corsa a caccia dei mostri ma ragionata fatta con responsabilità e lui diceva nel 2012 le caratteristiche dei sistemi sanitari sono la complessità l'incertezza ok l'opacità le misurazioni scadenti la variabilità nella presa delle decisioni la simmetria nell'informazione quindi c'è appunto questi media che ti dicono tutta una cosa però poi i dati veri sono occultati i conflitti di interesse e la corruzione queste sono le caratteristiche del mondo in cui siamo questi sono quindi una scatola nera ampiamente incontrollabile poi fa tutta un filotto di dati sul disastro in cui stavamo vivendo il 2012 adesso è solo che è peggiorata la situazione e quindi infatti dice in questa condizione più dell'80% delle persone pensa che la medicina sia una scienza esatta però non ci rendiamo conto che invece è molto precaria quindi è giunto il tempo di scoperchiare questa scatola nera della sanità incoraggiare l'alfabetizzazione alla salute perché abbiamo bisogno di incoraggiare un sano scetticismo sul mercato della salute e aiutare le persone a comprendere che la medicina è lontana dall'essere una scienza esatta i dati dovrebbero essere pubblicati esponendo vabbè i conflitti di interesse la corruzione vabbè esporre la corruzione è un po' non si ma non è e noi dovremmo dire che la salute dipende prevalentemente da fattori esogeni non dal sistema sanitario alle persone si dovrebbe dare strumenti pratici per promuovere la propria autonomia strumenti come l'accesso a informazioni evidence based cioè basate sulle evidenze a informazioni a informazioni